Ciao a tutti, benvenuti su Cucina Facile con Rossella, il nostro nuovo format web dove imparerete e impareremo insieme tantissime nuove ricette che potrete replicare a casa dalle più tradizionali alle più particolari Cosa faremo stasera? Una crostata super wow ragazzi, con tanti prodotti tipici, tanti prodotti top di altissima qualità Partiamo dal ripieno, il ripieno sarà con marmellata di albicocche del Vesuvio Don Andrè, questa è la migliore ragazzi, lo sapete perché? Perché è fatta all'interno del parco del Vesuvio albicocche biologiche naturali con tutto il sapore della natura Non solo, utilizzeremo anche la ricotta sempre nel nostro ripieno, una ricotta davvero che sa proprio di crema di latte e la tramontina, toppissima anche questa top punti vendita in tutta Italia, quindi la troverete ovunque ragazzi in particolare qui in campagna nei punti vendita di Portici, Ercolano e San Giorgio Cominciamo Guardate quanto è sbricioloso questo impasto molto molto veloce, non ha bisogno di riposo quindi noi faremo una crostata sbriciolata molto più semplice di quella normale Allora vi ricordo gli ingredienti sono 100 g di burro 3 uova 300 g di farina e 100 g di zucchero vi do una chicca ragazzi il segreto importante per la buona riuscita di una crostata una crostata bella frollosa è mettere la stessa quantità di zucchero e la stessa quantità di burro io come burro vi ricordo ho usato la tramontina che è davvero pieno di, insomma perfetto il burro quello di una volta allora cominciamo mettiamo l'impasto all'interno della nostra teglia e così avrà il tempo insomma di rassodare e rilassarsi io ho oleato la mia teglia questa è circa da 24 cm a seconda dell'altezza che vorrete dare alla vostra crostata utilizzerete una teglia o più stretta o ancora più larga quindi se volete una crostata insomma bella fina fina utilizzate, utilizzerete una teglia da 26 cm altrimenti da 20 cm se la volete bella alta allora andiamo a mettere all'interno della nostra teglia spostiamo un pochino l'impasto un fondo tutto sbriciolato ragazzi quindi non si deve stendere non deve riposare non deve stare troppo in frigo come la classica pasta frolla ma abbiamo soltanto bisogno di metterla all'interno della nostra teglia e compattarla leggermente così, in questo modo adesso abbiamo preparato il fondo della nostra crostata sbriciolata e andremo a preparare il ripieno guardate quanto è soda questa ricotta una ricotta di gran qualità ed io ho utilizzato la tramontina deve essere così ragazzi e non la filtrate mai io sono davvero contraria a filtrare la ricotta in molte ricette sia di crostata che di crema specificano sempre di setacciare la ricotta no ragazzi non lo fate si perde proprio tutta la consistenza mamma mia cioè io vi vorrei far stare qui ha un odore davvero spettacolare sa proprio di latte niente allora semplicemente mettiamo la ricotta 250 grammi di ricotta e poi ne potete utilizzare anche qualche grammo in più proprio per farla più alta la crostata, la farcitura la mettete all'interno di un piatto di una ciotola eccetera dove volete voi tanto è facilissima da preparare il ripieno andiamo ad unire un bicchiere che questo corrisponde intorno ai 120 grammi di zucchero all'interno io ne ho messo un pochino di meno 100 grammi circa e andiamo a mescolare così in questo modo bene bene ragazzi deve diventare una crema non state lì troppo a mescolare deve essere bella si deve sentire proprio tutto il sapore della ricotta, dello zucchero e del limone l'altra mezza scorza di limone la utilizzeremo per aromatizzare il ripieno non potete capire che profumo allora prendiamo la nostra base della crostata e mettiamo all'interno prima la ricotta così in questo modo mamma mia che odore ragazzi e cerchiamo di allargarla non arrivate mai troppo sui bordi perché non deve toccare la teglia così adesso abbiamo messo la ricotta all'interno della crostata come ripieno e magia la marmellata io ho usato questa mamma mia allora vi dico una buona marmellata 100% naturale deve avere questo colore qua non deve essere troppo chiara una marmellata di albicocche deve avere quella patina leggermente così sul marroncino perché così significa che è biologica che è naturale questa è fatta con le albicocche vesuviane dell'azienda Don Andrè Ercolano è davvero uno spettacolo vi vorrei tenere tutti qui per farvi sentire che odore ha questa marmellata la andiamo a mettere sulla ricotta e sarà il nostro ripieno andrà a completare il nostro ripieno un velo di marmellata questa poi è perfetta perché non è troppo dolce ma mantiene proprio gli zuccheri soltanto della frutta ecco qui mettiamo un altro cucchiaio e voilà 200 grammi però voi tenetene giusto un pochino un paio di cucchiaini perché so che assolutamente non riuscirete a resistere dal volerla mangiare quindi conservatela per mangiarla così al naturale adesso dobbiamo mettere sopra la nostra sbriciolata il resto dell'impasto allora il resto dell'impasto sempre sbriciolato ma avete visto quanto è facile fare questa crostata così prima sui bordi per creare proprio il il bordino della crostata della sbriciolata così e poi al centro giusto una spolverata se vi avanza un po' di impasto poi magari lo potete non so ricompattare e farci dei biscotti questa è la quantità giusta così rimarrà un po' di ripieno in vista che davvero le ricette devono sempre avere quel non so anche un occhio proprio alla presentazione alla bellezza stessa del dolce della ricetta ragazzi adesso in forno 180 gradi statico per circa 30-35 minuti ma voi controllate sempre la cottura perché deve essere deve avere una doratura uniforme in superficie in forno allora la crostata è in forno che cuoce io me la sono preparata prima perché volevo farvi vedere il risultato finito questa che vi faccio vedere è ancora un pochino tiepida prendiamola guardate che bella sì mamma mia un odore che praticamente si sprigiona per tutta la stanza mi è venuta un'idea voglio assolutamente immortalare ogni finale di ricetta quindi il risultato finale è la mia Fujifilm che fa foto istantanea è praticamente perfetta vi faccio vedere come si come si fa come funziona guardate qui è pazzesca adesso aspetto che si impressioni intanto noi assaggiamo la crostata mamma mia questa è ancora tiepida io vi consiglio sempre di tagliarla quando è bella fredda perché comunque alla fine mantiene la fetta io ve la faccio vedere perché sapete i tempi di una diretta insomma sono abbastanza stretti mamma mia ragazzi mamma mia mamma mia tatam ditemi se non è perfetta guardate c'è c'è ancora cottura davvero perfetta la pasta frolla è cotta sia sotto che sopra il colore deve essere questo biscottato adesso ce la mangiamo spero vi sia piaciuta questa crostata scrivete nei commenti la prossima ricetta che volete che io faccia la settimana prossima vedrete sarà pazzesca sicuramente e sicuramente anche facile quindi datemi tanti consigli tanti consigli appena posso rispondo e adesso mangiamo ce la mangiamo tutti quanti questa crostata ci siamo divertiti tantissimo l'abbiniamo con un romeo un passito veneto davvero molto molto aromatico che gentilmente ci ha fornito wine store e nulla ragazzi alla prossima settimana e cucina facile con rossella ok ragazzi ricapitoliamo abbiamo fatto la crostata sbriciolata ricotta e albicocche del vesuvio con ricotta tramontina la trovate nei punti vendita di portici san giorgio ed ercolano una base di pasta frolla con farina zucchero scorza di metà limone uova e burro impassata grossolanamente di seguito abbiamo messo metà impasso in una teglia da 24 cm realizzato poi la farcitura mescolando la ricotta con zucchero e scorza di limone e versando tutto sopra l'impasto sbriciolato aggiungiamo la marmellata di albicocche del vesuvio e sopra il resto dell'impasto sbriciolato inforniamo a 180 gradi statico per 35 minuti lasciamo raffreddare e voilà la crostata è pronta grazie a tutti